Goccia divina. In che modo la vita fisica agisce sui corpi superiori? Commento. Le sensazioni, le emozioni e i desideri sono le vibrazioni del corpo astrale. Le riflessioni e i pensieri sono le vibrazioni del corpo mentale. Tutti i corpi interagiscono l'un l'altro in un interscambio continuo anche con i corpi ancora superiori che sono i corpi spirituali per permettere all'individuo di scoprire la goccia divina.